leggerli come leggerli, interlinea edizioni, e tu scrivi Mi è sempre sembrato che niente come la letteratura avrebbe potuto interessarmi così a fondo e tu devi questa tua passione a un cugino. Sì, era un cugino più ricco di me, non che fosse ricco. La ricchezza dalle mie parti e nei miei tempi era molto rara. Era però un cugino che stava meglio, più benestante, e aveva già dei libri. Erano tutti libri di classici per ragazzi, quindi classici ridotti per ragazzi. C'era anche il Don Quixote, no? C'era certo, c'era il Don Quixote, ma c'era l'Isola Misteriosa, c'era Capitani Coraggiosi, c'era Salgari. C'era di tutto un po', e un po' di tutto. Lui, avendo questa biblioteca, me ne forniva i libri, quindi ho potuto leggere avendo da lui la materia prima, perché a casa mia i libri non ce n'erano, i miei facevano i contadini ed era facile immaginare che non fossero dei grandi lettori. Infatti non lo erano. Per cui, sì, è cominciata così, ma secondo me, chiamiamola propensione, non voglio nemmeno poi infarcire troppo il discorso di parole difficili come vocazione, eccetera. La propensione alla lettura è un po' come una musica che nasce prima, cioè nasce come un'esigenza difficile e misteriosa da catturare e da definire. E' stato lettore anche mio fratello che ha fatto altri mestieri ed è stato un lettore tale che leggeva al Pascolo Le Vergini delle Rocce di D'Annunzio senza capirci nulla, ma è stato lettore anche lui e non ha mai smesso di essere lettore anche facendo altri mestieri. Voglio dire che davvero la propensione alla lettura è qualcosa di fortemente misterioso che appartiene alla nostra esigenza, per così dire profonda, e in questo senso la profondità c'è, di riscatto. Ecco, questo è un libro, devo dire, veramente prezioso e gli spunti per discutere, per riflettere sono tantissimi. Tu a un certo punto scrivi anche, la letteratura, come la poesia, non salva la vita, ma forse la migliore, nel senso che rende più consapevole, come sosteneva Goethe, il nostro soggiorno sulla terra. E così dovrebbe essere, è che io sono un poco, in questo mi mantengo, nella mia utopia e nella mia ingenuità, nel senso che io ho sempre pensato che la letteratura dovrebbe migliorarci, la consapevolezza dovrebbe migliorarci. Apprendo poi, da parte di studiosi illustri come George Steiner, che ha molto riflettuto su questa questione, che la letteratura e questa consapevolezza di cui parliamo, non è peraltro riuscita ad evitare violenze formidabili come quella nazista, SS che potevano naturalmente... Si, bruciavano i libri però, bisogna anche dire, no? Bruciavano naturalmente i libri, ma però c'erano anche persone che potremmo considerare colte, le quali tuttavia non erano salvate dalla letteratura che leggevano. Ed è una considerazione che ho fatto a più riprese, cioè la letteratura dovrebbe darti, con la consapevolezza maggiore che ti dà della vita, dovrebbe anche migliorarti, trasformarti, motivarti a comprendere la complessità della vita e quindi a renderti anche, come dire, meno aggressivo, non voglio dire meno violento. Senti Giovanni, però ecco, solo una riga, no? E' un tesoro anche solo una riga, giusto? Sì, questo è un tratto che ho preso da Paola Mastrucola, che considero una poetessa di notevole levatura. Io la considero più poeta che non scrittrice, è saggista anche se invece è più nota per essere scrittrice e saggista, ma dicevo che è presa di lì perché effettivamente ho sempre letto libri in qualche maniera macellandoli, cioè io non sono uno che conserva il libro nella sua perfezione tipografica, ho bisogno di una penna, di una matita, spesso un lapis che mi piace molto, prendere appunti, segnare le cose che mi sembrano più notevoli e quindi a volte un epigrafe, una riga, una parola, possono bastare ad accendere dentro di te il fervore di un desiderio altro a cui ti affidi.